Buon appetito ragazzi, è per la lista. Presenti prossimi, 595 Luca Molito, Gas Gas 650, 430 Luca, e due campanieri a 519, quindi la mia gioia con 799, e due campanieri a 520, quindi la mia gioia con 799, e due campanieri a 519, quindi la mia gioia con 799, e due campanieri a 519, quindi la mia gioia con 799, e due campanieri a 519, quindi la mia gioia con 799, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.